E' stato assegnato il Nobel per la Fisica. Sono passati due anni dalla scoperta delle onde gravitazionali. Sono stati fatti dei passivanti da allora? Il Nobel della Fisica di quest'anno è stato assegnato ai tre principali responsabili del progetto LIGO, che due anni fa ha portato alla prima rivelazione di onde gravitazionali. Questa scoperta è molto importante perché fondamentalmente conferma ancora una volta la teoria della relatività di Einstein e inoltre apre delle prospettive interessantissime per lo studio dell'universo e quindi per nuove scoperte che avverranno nel futuro. In questi due anni è cambiato effettivamente qualcosa, nel senso che anche il rivelatore europeo, soprattutto italo-francese chiamato Virgo, ha cominciato ad acquisire dati in contemporanea ai due rivelatori statunitensi LIGO e giusto recentemente è stata data proprio la notizia che c'è stata una rivelazione congiunta, ovvero i tre rivelatori hanno visto tutti e tre la stessa onda gravitazionale e quindi hanno confermato ulteriormente l'esistenza di queste onde. Inoltre questa rivelazione congiunta ha permesso di migliorare notevolmente la precisione con cui possiamo individuare questa sorgente nel cielo e quindi cercare poi anche altri tipi di effetti come onde elettromagnetiche emesse da questo effetto. E quali sono le possibili ricadute di una scoperta così rilevante? Dobbiamo dire che questa scoperta è una scoperta di fisica fondamentale, quindi è anche difficile definire in questo momento quali ricadute possano esserci nei prossimi anni. Sicuramente avremo delle ricadute molto importanti nei prossimi 10-20 anni. Dal punto di vista scientifico apre un'intera branca di osservazione dell'universo, perché finora abbiamo osservato l'universo solo utilizzando le onde elettromagnetiche, quindi la luce, i raggi X, le onde radio. Questo tipo di onde ci permette di vedere alcuni fenomeni e alcuni sorgenti. Attraverso le onde gravitazionali potremo vedere anche altri fenomeni che finora sono rimasti totalmente invisibili, anche altri sorgenti e magari scoprire qualcosa che non sappiamo neanche che esista. Dal punto di vista della persona comune ci potranno essere sicuramente delle ricadute, soprattutto a livello tecnologico, perché tutta la tecnologia che è stata sviluppata per questi rivelatori, poi verrà applicata anche ad altri campi. Questo è già successo nel passato, come per esempio nel campo delle esplorazioni spaziali, in cui i materiali utilizzati per i satelliti o per le navicelle poi sono stati utilizzati per esempio per creare delle protesi biomediche. Sicuramente ci saranno delle ricadute nel campo delle telecomunicazioni, probabilmente nel campo biomedico e anche in altri campi che in questo momento non è facile prevedere. Dal punto di vista scientifico poi questo dovrebbe aprire nuove prospettive proprio per lo studio della gravità, che finora è forse la forza che meno conosciamo e giusto in questi anni sta partendo un progetto molto importante per generare un nuovo tipo di sismografo che permetta di vedere i terremoti subito dopo che sono avvenuti. Quindi per anticipare anche magari di qualche minuto l'allerta alle persone e alle infrastrutture.